Lo devo dire, forza! Vai Carlet, vai Carlet! Ma in prima, non cambiare! Si però, non mi toglie! Se non la passi di dietro non va più! Ok, un applauso signori! Via, via, via! Ecco qua il numero 14 che è partito! Ok, scendendo, gliel'abbiamo dato un po' facile! In tornato 2000, ci vediamo dopo! Ecco qua che è partito, ecco qua che è partito! La mancia, il primo cattivo! La mancia, il primo cattivo, come! Vai Carlet! Buongiorno! 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 Sarà Cattodo P battery Come sei stcito? Abbiamo vinto il nostro numero 11, vediamo il numero 11, via 80-80, Casiraghi adesso si prepara, dopo passiamo alla seconda categoria, è da 100 a 150 cavalli, si prepara il numero 7, si è partito Alessio, vediamo quanto c'è la natura, ce la sta mettendo tutta, ce la sta mettendo tutta, non morta neanche un po', la cara si affumola davanti alla finita ma i fratelli sono morti, Alla prossima dai 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 siamo un punto in giro 3 eccoci qua eccoci qua andiamo a messa dai dai Marco tutti i vecchi stai andando a cantare senza bene o padre? stai andando a cantare dai dai Marco quasi alla fine ecco qua 29.49 2.9 partito con uno sprint incredibile stai andando a cantare stai andando a cantare stai andando stai andando a cantare stai andando a cantare non è così che non è iniziata su un'articolo che era tutto certo il pregno è iniziato ha detto che è un spettibulli fratelli franquini è iniziato Sì, è stato un po' di tempo, siamo a 10 secondi Si impegna il trattore, si impegna! Anche a poco, manche a poco! Ah, sta rallentando, ma vedo che tiene duro, eh! Dai, 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 dai! Io leggo un 31.9! Dai, 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 dai! E' partito, è partito numero 5! E' partito numero 5! Sì, tayscarcho! Ti arriva! La scuola è un'altra scuola, la scuola è un'altra scuola. 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 La scuola è un'altra scuola.